Musica Abbiamo pensato di portare un progetto a Packaging Premier che fosse un progetto di proposta e non un progetto di produzione fatta e già vista. Abbiamo avuto un bellissimo riscontro, un ottimo successo e un afflusso di pubblico importante. Questo è un momento importante nel mondo del packaging per potersi incontrare, per potersi scambiare opinioni, prodotti e idee. L'organizzazione della fiera è stata fatta molto bene, ha pregi molto belli perché comunque è molto fruibile e si può vedere tutto in maniera molto veloce e in maniera molto chiara. Grazie Grazie